Tre borse di studio da 1000 euro ciascuna. A erogarle sarà il Comitato Provinciale della Croce Rossa di Piacenza per sostenere gli studenti del corso universitario di infermieristica. Abbiamo individuato nella professione dell'infermiere quella che può essere poi il vero aiuto all'interno di famiglie che si trovano in difficoltà. E quindi da qui l'idea di sostenere da quest'anno e per i prossimi due anni, quindi in totale tre anni per il momento, una borsa di studio. Per provare a ottenere le borse di studio, intitolate alla memoria della suora crocerosina Matilde Lucchini, bisogna consultare il sito internet www.cripiacenza.it e scaricare l'apposito modulo. Nello specifico, il bando per l'assegnazione dei fondi è riservato agli allievi residenti nella nostra provincia e iscritti al primo anno accademico del corso infermieristico dell'Università di Parma con sede a Piacenza. Chi ha l'ISE più basso andremo a vedere poi anche un criterio di merito, cioè il numero di esami che hanno sostenuto all'ultima sessione di esami, che è quella di dicembre 2019, e poi dal numero di esami andiamo a vedere chi ha avuto la media più alta. Le domande di ammissione devono pervenire in un unico formato PDF entro il 10 gennaio 2020 all'indiritto di posta elettronica c.merlini-usl.pc.it Grazie a tutti.